O meglio, la strada della dama le ha descritto un passaggio che in questa situazione ci permette di capire comunque. L'abbiamo ripetuto, il cavaliere passa, sgancia una mano, l'aria aggancia, non ci sono castigane molto semplici, dobbiamo solo sviluppare il senso dell'orientamento, ok? Ve la facciamo vedere con la musica e magari aggiungiamo anche un pezzettino per farvi capire che poi queste cose facili facili si possono poi sviluppare. Quando vuoi, Claudio. Questo era quello che abbiamo annunciato qua. E' un altro tipo di ricordi che abbiamo già visto, i nostri appuntamenti. Gli un po' anche E' altro, non ricorda tutto. 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 Marco Di Pena, un applauso!